Riyadh e Washington hanno confermato in un comunicato congiunto che sabato inizieranno i negoziati tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido. Le due parti che si incontreranno a Ghedda in Arabia Saudita hanno infatti accettato di tenere colloqui tecnici per una tregua. I due paesi mediatori hanno accolto con favore l'inizio dei colloqui prenegoziali e hanno invitato i belligeranti a impegnarsi attivamente per raggiungere la fine del conflitto. Tre settimane di combattimenti in Sudan hanno causato 700 morti, più di 5.000 feriti e almeno 450.000 trasfollati e rifugiati. Più di 5.500 persone di 102 nazionalità sono state evacuate dall'inizio della guerra.